Altro giro, altra corsa, doppio appuntamento conclusivo e decisivo per il Città di Gallipoli dei play-off nazionali di eccellenza. Dopo aver eliminato con personalità il Città dei Sassi Matera tra la Serie D e i Salentini è rimasto soltanto l'Agropoli. La squadra, allenata da Alessandro Carrozza, giocherà domani in casa alla finale d'andata contro i Campani. Fischio d'inizio alle ore 16.30 al bianco. La gara di ritorno invece è fissata per domenica 18 giugno allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli. Le sensazioni sono sicuramente positive ma perché ce le siamo create noi durante il corso della stagione, giorno dopo giorno in allenamento. Quindi arriviamo a queste due partite consapevoli delle nostre potenzialità e sicuramente scenderemo in campo con la solita cattiveria e umiltà che ci contraddistinguono. Giovane, molto interessante, Andrea Piscopiello classe 2003 che si è trasferito a dicembre dal Maglia al Città di Gallipoli e si è ritagliato uno spazio importante nei meccanismi difensivi dei giallorossi. Ha recuperato dell'infortunio che l'ha costretto a saltare alla semifinale di ritorno con il Città dei Sassi. Ora è a disposizione per l'Agropoli. Purtroppo ho dovuto saltare il ritorno però adesso sono a disposizione, domani ci siamo insomma. E sì, dopo la parentesi a Maglia non ho avuto dubbi sinceramente ad andare al Città di Gallipoli. Ne conoscevo qualche compagno, ne hanno parlato bene e le aspettative si sono rispettate. Ho trovato un ambiente sano e soprattutto gli over sono molto bravi con noi e ci fanno sentire parte del gruppo. Ci vorrà il miglior Città di Gallipoli per battere l'Agropoli e trasformare in realtà il sogno della Serie D sfumato nello spareggio secco di tre settimane fa contro il Manfredonia sul neutro di Fasano. Sicuramente è una squadra che ha il grande valore tecnico e tattico come anche allora il Matera. Siamo stati bravi noi a interpretare bene le due semifinali e in settimana abbiamo lavorato allo stesso modo, a stessa intensità per prepararci a ripetere i risultati delle due partite precedenti. Decisiva? No, ma sarà fondamentale la gara d'andata per il Città di Gallipoli che domani proverà a creare i migliori presupposti in vista della partita esterna di Agropoli. Ok, la partita si sviluppa sui 180, però partiremo sicuramente forte domani per arrivare sereni alla partita del 18.